Dalle sparatorie degli anni Ottanta a Bari Vecchia la calma apparente degli ultimi decenni. Una calma per poter lucrare più denaro puntando al tessuto focio-economico di Bari e provincia. Un risultato ottenuto con successo, tanto che la città è divisa tra i clan Strisciuglio a Rione Libertà, capreati a Bari Vecchia e i parisi del rione Iapigia, che governano tutti i quartieri. Una città che ha ormai un tessuso mafioso molto radicato e che affonda le sue radici nello spaccio di droghe e nelle estorsioni. L'omicidio della notte di Pasquetta, costato la vita al 39enne Raffaele Capreati, detto Lello, nipote di Tonino, boss storico di Bari Vecchia, coinvolto nella probabile caduta del sindaco De Caro, di cui si parla in questi giorni per la commissione d'accesso del Viminale, potrebbe segnare l'inizio di una nuova guerra di mafia in città, che riporta in mente gli anni Novanta, anni in cui la guerra tra il clan Capreati e Strisciuglio fece decine di morti. Non è un caso, forse, che a gennaio scorso è uscito dal carcere Gino Strisciuglio, detto La Luna, e Capreati è morto.